ah amici di xbox live nuovo appuntamento settimanale con l'angolo di zio belli anche oggi vedremo nuove puntate soprattutto di cagliate ai videogiochi quelli ignoranti vai con la clippe eccoci qua allora primo gioco ignorante ufc Allora qua mi sono fatto il personaggio mio Che me l'ha fatto tipo padre Pio Però veramente meno come in Fabbro Spim! Guarda che io ho fatto Questo rap, fateci vedere sto rallenti Guarda qui eh Spim! Ce l'ho spento proprio On e off E' come se non bastasse, esatto, ecco Gli meno culi mentre sta per terra C'è perder sangue e toglie Vabbè, andiamo avanti Oh, perché mettere FIFA? Perché FIFA è un gioco bastardo Qui, 800 tiri E' la fine entrata pure per me Dai ragazzo 10 tiri per fare un gol, ragazzi L'odio sto gioco, veramente L'odio dal più profondo del cuore Vediamo replay Scatta sulla fancia, cross Para, entra E dai ragazzo, Zio Biglia ha segnato Vabbè, 800 Bel gioco, eh Bel gioco, complimenti Ma fa un culo a FIFA Oh, un'altra clip pettora da UFC Pure qui me ce l'ho impegnato L'ho sfranto Perché gli è meno sull'orecchio? Separa Oddio, l'ho spento Guarda, è morto Basta È morto Arbitro Eh Sempre a tema calcio Vediamoci questa bella cafonata The PES 2015 Che mi ricordo PES sulla Playstation Ragazzi, veramente Mi c'ero proprio chiuso Anche se questo graficamente non è male Devo dire che l'hanno fatto carino Anche se purtroppo non sono amante proprio 100% dei giochi di calcio Ma sono un po' una pippa Comunque ecco qua Pure qua ho fatto gol Ci stava Eh eh Putzè Guarda che cross Bella così Cercate a Ziumbili Cercate a Ziumbili